Il grande Streller, terza parte. Con il maestro, che allora aveva 74 anni e un fuoco interiore che bruciava indomito e inestinguibile, ci siamo trovati a pelle. Non gli interessavano le sofisticatezze della mente, voleva vedere l'energia, il vibrare del corpo, l'interazione tra i personaggi. Qualcosa in lui, che pure apparteneva ad un'altolocata famiglia triestina, invocava la polvere e la concretezza della strada. Forse questa corda popolare appartiene a tutti i grandi, quale che sia la loro provenienza. Per dar vita all'arte in fondo c'è sempre bisogno dello sporco, della terra, del sangue. I grandi del teatro o della letteratura, come Shakespeare o Dostoevsky, difficilmente sono elitari. Partono dalla fogna dell'uomo per arrivare alla poesia più sublime. Per questo rimangono eterni e sono riconosciuti come tali dal contadino e dal borghese. Sanno parlare all'uomo nell'uomo, oltre la classe, oltre la cultura. Questa visceralità di Streller, allergica ad ogni conformismo ipocrita, si può raccontare in poche pennellate, con un aneddoto che mi ha riferito Sergio Salvi, mio docente alla scuola Alessandro Fersen. Il maestro era all'opera dell'interrogatorio di Lucullo di Bertolt Brecht, dove Sergio lavorava come attore, in cui era prevista la partecipazione di un coro di bambine diretto dal maestro Bruno Bartoletti. Le piccole, dai 6 ai 12 anni, erano schierati in alto, in galleria. Durante le prove, Streller borbottava, facendo rifare più volte la scena in cui era coinvolto il coro. All'ennesima richiesta di riprovare, aveva richiamato il suo assistente. Senti, bisogna dire al maestro della corale che così non va. L'assistente, pronto ad eseguire, aveva chiesto al maestro quali indicazioni dovesse impartire. Le vorrei più... Sì, insomma, più... Diggi che le vorrei più... Troie, era stata la risposta di Streller, data con impeto, come ogni artista, quando è nel vivo della creazione. L'assistente aveva riferito al direttore del coro non si sa cosa, e misteriosamente, nella prova successiva, il risultato era perfetto. È solo un aneddoto, forse estremo, che inquadra però l'energia terragna, senza veli, con cui lavorava quel genio. Grazie. Grazie. Grazie.